Per tutelare i consumatori e contrastare il caro carburante, il Comune di Napoli scende in campo con tre iniziative che mirano a scoraggiare eventuali comportamenti scorretti ed informare gli automobilisti sui costi più bassi in città. In collaborazione con i benzinai, infatti, ogni martedì il Comune pubblicherà sul sito istituzionale all'indirizzo in sovraimpressione la rilevazione del prezzo di carburante più vantaggioso. È normale che le televisioni e i giornali segnalino ogni volta il prezzo di punta, quello che fa più notizia. La benzina è arrivata a 2 euro, poi magari uno la paga 1,95 e dice ma è andata bene. Invece noi segnaleremo come Comune ogni settimana il prezzo più basso in città proprio per dare un segnale che è possibile risparmiare. Ci sono differenze in città di 20 centesimi e quindi è possibile risparmiare anche 8 euro su un pieno di benzina, non è poco. La seconda iniziativa, Occhio alla differenza, vede invece l'amministrazione comunale impegnata in un'attività di monitoraggio per impedire che siano applicati aumenti ingiustificati sul prezzo del diesel. Non tutti sanno, ricordano, che la sovrattassa regionale si paga esclusivamente sulla benzina, non sul diesel. In città la differenza dovrebbe essere di 12 centesimi, i 9 generali più i 3 della tassa. Molte volte però sul diesel c'è un sovraccarico messo dal distributore e quindi questa differenza si riduce. La differenza giusta, lo ripeto, è 12 centesimi e su questo chiediamo le associazioni di consumatori ad aiutarci a monitorare i prezzi. Ed infine con l'approvazione del decreto sulle liberalizzazioni il Comune di Napoli propone l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, con l'obiettivo di realizzare in città vere e proprie stazioni multiservizio, dove sarà possibile ad esempio per gli automobilisti rivolgersi al proprio benzinaio per prenotare un parcheggio in zona. Studiare caso per caso come aumentare gli spazi a disposizione e quindi dare la possibilità al distributore, al gestore di vendere più prodotti e quindi di spalmare le fonti di reddito e di avere prezzi ancora una volta un po' più bassi sulla benzina e sui carburanti.